La novità è intanto aver proseguito, se vuole più che una novità, una conferma di questa attenzione allo sport di base. Abbiamo destinato ulteriori 17-18 milioni di euro al progetto Sporti di Tutti, che si sommano ai 7 di un mese fa, quindi 25 milioni di euro per sport di base. E poi questa integrale applicazione del modello algoritmico, in particolare per le federazioni, per il quale si sono impiegate tutte le risorse assegnate alle federazioni sportive. Rispetto ai criteri del CONI ha cambiato qualcosa? Sì, sono state preservate quelle che noi riteniamo le linee guida fondamentali, quindi la priorità all'attività olimpica, alla preparazione di alto livello. Sono state mantenute alcune polisi, mentre le novità principali sono, come ho già avuto modo di dire, intanto la spostamento di risorse verso l'attività di base e poi questa assenza di discrezionalità attraverso l'utilizzo integrale di questo modello. Possiamo fare un bilancio di questo primo anno di applicazione della riforma? Ma diciamo, per me è presto, perché siamo ancora in una fase di studio, di apprendimento, però se vogliamo guardare la riforma, quindi quando la legge è stata emanata l'anno scorso, possiamo dire che nel 2019, tra i 60 di ottobre e i 280 di oggi, allo sport sono affluiti 340 milioni di euro, che significa il 20% in più rispetto all'anno precedente. Questo deriva dal meccanismo di legge e dalla crescita dello sport, il PIL dello sport è in crescita, il meccanismo di legge prevede un ancoraggio alla ricchezza che lo sport produce, quindi una buona notizia, con ovviamente il meccanismo di sussidiarietà, abbiamo migrato i criteri da quelli vecchi a quelli nuovi con le caratteristiche che abbiamo detto e in più abbiamo destinato tra la prima e la seconda manovra il 10% oltre delle risorse allo sport di base, all'attività sociale e alla scuola. Un bilancio invece di questi suoi primi sette mesi di presidenza? Diciamo impegnativi, mi aspettavo di parlare un po' più di sport e meno di soldi, ma penso che questo si possa farlo strada facendo, tantissime cose da fare, molte cose che hanno bisogno di discontinuità, di innovazione, l'impegno di tutti, mi pare che il clima generale sia migliorato, i rapporti col coni dopo l'inevitabile discontinuità si stanno normalizzando, le federazioni ci seguono, c'è attenzione, c'è aspettativa, siamo impegnati a farlo. C'è un ministro che sta dando un impulso importante, come ho detto in particolare sull'attività di base, sullo sport di base e noi siamo incentivati e stimolati a secondarne la volontà.